Proprio come accade ai musicisti quando rilasciano un nuovo album, si dice che quello sia il migliore della loro carriera. E così in ambito tecnologico, quando un brand rilascia un nuovo dispositivo, in particolare uno smartphone, si dice che quello sia il migliore che abbiano mai prodotto fino ad ora. Non sempre è così, ma per Xiaomi 12T possiamo proprio dirlo. Lui è il miglior Xiaomi che l'azienda abbia mai prodotto. E il perché ve lo racconto all'interno di questa recensione, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e commentare questo video. Ma già che ci siete, cliccate anche sulla campanella per non perdere i video futuri e date uno sguardo a tutti i nostri social, come Instagram nonché i nostri blog. E detto ciò, mettetevi comodi e partiamo con la recensione di Xiaomi 12T. Ebbene sì, Xiaomi 12T è davvero il miglior Xiaomi finora prodotto. Ma prima di partire col raccontarvi il perché voglio subito spezzare una lancia a favore di Xiaomi perché ha finalmente accolto le richieste degli utenti. Ovvero su Xiaomi 12T è stato reintrodotto in maniera fisica il sensore di prossimità. Quindi dite pure addio al fatto che quando ascoltate messaggi su WhatsApp, Telegram o semplicemente rispondete ad una chiamata, la guancia magari vada a toccare involontariamente tasti sul display andando a effettuare dei casini in mani. Qui tutto funziona alla perfezione. È davvero piacevolissimo fare chiamate e ascoltare messaggi appunto sui vari social. Quindi grazie davvero Xiaomi per aver reintrodotto un sensore di prossimità fisico. Xiaomi 12T si differenzia dal fratello maggiore in particolar modo per il processore. Sul modello pro infatti troviamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mentre qui troviamo un Mediatek Dimensity 8100 Ultra. E qualcuno potrebbe dire bah Mediatek che sola. E invece no ragazzi perché questi ultimi processori prodotti proprio dalla casa taiwanese sono davvero ben ottimizzati e super performanti. Parliamo di prestazioni proprio in generale che si equivalgono praticamente ai modelli di Qualcomm ma soprattutto qui vengono davvero ben ottimizzati andando quindi a erogare una potenza senza mai surriscaldare cosa che invece accade sui processori di Qualcomm. E quindi qui diventa piacevole effettuare qualsiasi operazione che sia anche il gaming più spinto. Anche perché a corredo abbiamo una GPU Mali G610 MC6 oltre che un sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore maggiorata e quindi tutte le temperature vengono davvero tenute a bada. Forse sarebbe stato meglio il contrario considerando che andiamo incontro all'inverno e una stufetta portatile avrebbe fatto comodo ma così non è. Xiaomi 12T grazie al suo processore Mediatek Dimensity 8100 Ultra non surriscalda mai. E poi gli 8 GB a corredo di tipo LPDDR5 a livello di RAM e 128 o 256 GB di storage UFS 3.1 fanno letteralmente volare questo smartphone ma non volare perché lo buttate dalla finestra volare perché l'apertura di applicazioni e i vari compiti che andrete a richiedere allo smartphone sono davvero full mini. È davvero una meraviglia andare a utilizzare Xiaomi 12T ed una meraviglia lo diventa anche grazie al display di tipo AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con una forma ad aspetto in 29 e risoluzione di 2712 x 1220 pixel con 446 ppi. Abbiamo però un refresh rate a 120 Hz con una frequenza di campionamento al tocco di 480 Hz il che significa che tutto scorre a meraviglia. È davvero un burro. Insomma praticamente utilizzare questo smartphone in ogni ambito così come per la visione di contenuti multimediali è decisamente appagante per la vista e per lo spirito. Parliamo infatti di un display con un profilo colore DCI-P3 al 100% con tecnologia True Color e poi la luminosità di picco che arriva fino a 900 nits permette di guardare ogni contenuto anche sotto luce diretta del sole. Ma non finisce qua perché abbiamo naturalmente il supporto ai contenuti HDR10 Plus e Wideband di livello 1 completo e quindi sfruttabile anche su piattaforme streaming come Amazon Prime Video. Non guasta poi una protezione del vetro di tipo Corning Gorilla Glass di quinta generazione mentre tutto quanto il display è raccolto da cornici davvero simmetriche il che rende decisamente premium l'aspetto di questo smartphone. Il tutto è interrotto unicamente da una camera selfie posizionata in un punch hole centrale ma d'altronde se iPhone 14 Pro ha fatto la sua fortuna con una Dynamic Island beh qui eventualmente potreste sfruttare proprio il punch hole con le varie applicazioni che simulano la Dynamic Island ma a mio avviso potete farne tranquillamente a meno anche perché il foro è talmente piccolo che sicuramente passerà inosservato durante la fruizione di contenuti multimediali. Parliamo di uno smartphone che al netto della sua potenza riesce comunque ad essere sfruttato anche ad una singola mano. Parliamo infatti di misure pari a 163,1 x 75,9 e 8,6 mm di spessore per un peso di 202 grammi. Non proprio leggero ma comunque davvero ben ottimizzato per quel che riguarda il bilanciamento dei pesi e poi la forma leggermente saponetta aiuta proprio il grip con lo smartphone che sul retro è comunque realizzato con un vetro che è di tipo opaco e quindi anche qui un aspetto premium perché le impronte digitali e lo sporco in generale difficilmente si attaccheranno sulla sua superficie. Abbiamo poi un importante modulo fotografico dove troviamo tre ottiche la cui principale è da 108 megapixel accompagnate poi da ulteriori due ottiche con ulteriore flash led di tipo dual ma di questo aspetto ne parliamo un po' più avanti. Lui è disponibile in tre diversi colori silver, blu e black ma soprattutto ci tengo a precisare la confezione di acquisto di questo smartphone perché pur parlando di un dispositivo equiparabile ai top di gamma beh rispetto alla concorrenza lui offre tutto il necessario per partire sin da subito nell'utilizzo a partire da una pellicola pre applicata sullo schermo ma soprattutto al caricatore presente in confezione con tanto di cavo usb per trasferimento dati e ricarica ma anche una cover a protezione di tutto lo smartphone il che non guasta e se consideriamo che dispositivi che arrivano a costare anche oltre 1000 euro non offrono praticamente nulla se non lo smartphone stesso qui va decisamente l'applauso a Xiaomi. Parliamo anche un po' di suono e connettività perché Xiaomi 12T a partire dal suono offre due speaker di tipo stereo con un suono sprigionato letteralmente sublime parliamo infatti di uno spettro sonoro davvero completo con una ricchezza di bassi e soprattutto un suono ben caldo il che giustifica in parte l'assenza del jack da 3,5 per cuffie cablate quindi eventualmente o sfrutterete gli ottimi speaker stereo oppure se volete un po' di privacy tranquillamente potete associare delle cuffiette true wireless considerando che lui ha anche l'ultimo protocollo di bluetooth 5.3. Non manca poi connettività NFC per trasformare lo smartphone in un portafoglio digitale oltre che a wifi 6 codec ld ac gps dual e naturalmente il supporto Dolby Atmos per il suono. Infine non manca la connettività 5g di tipo dual sfruttabile su entrambi gli slot purtroppo non abbiamo l'espansione di memoria a corredo e quindi vi invito magari qualora fosse interessati all'acquisto di puntare sulla versione da 256 gigabyte considerando ormai che i 128 gigabyte in generale offerti cominciano a risultare un po' strettini. Questo perché anche per quel che riguarda la possibilità di girare video beh Xiaomi 12T offre davvero il meglio. Si supporta da una ottica principale da 108 megapixel con apertura focale f1.75 stabilizzata otticamente. Abbiamo naturalmente tecnologia pixel binning 9 in 1 a cui poi si accompagna un'ulteriore ottica da 8 megapixel ultra wide f2.2 con field of view di 120 gradi ed un'ottica dedicata alle fotografie macro da 2 megapixel con apertura f2.4. Possiamo comunque girare video fino al 4k a 30 fps ma soprattutto la resa fotografica non è proprio da camera phone ma comunque il punto scatta è sempre ben riuscito. Otterrete naturalmente degli scatti in condizioni diurne decisamente ottimali pieni di dettagli e mai sbavati. Purtroppo in fase serale comunque in condizioni diurne nonostante la modalità apposita dedicata qualche piccola sbavatura esce fuori ma personalmente vorrei capire chi è che va a scattare delle foto in notturna con uno smartphone. Se siete dei professionisti probabilmente vi dedicherete a ottiche dedicate quali comunque fotocamere professionali e non uno smartphone. Ma a parte questo se vi mettete un po' di impegno beh con l'ottica principale e naturalmente la modalità professionale in cui potete regolare ogni parametro riuscirete a tirar fuori degli scatti decisamente ottimi. Buona anche la camera selfie da 20 megapixel apertura f 2.24 che riesce a girare video a 1080p a 60 fps. E poi non mancano tutte le chicche software come la modalità vlog, la modalità cinema e tantissimi filtri per eventualmente andare a re-effettuare dei scatti e video comunque molto più particolari rispetto allo standard. In ambito generale per quel che riguarda la fotografia Xiaomi 12T non delude, anzi a mio avviso è un gradino superiore a tanti altri smartphone della stessa fascia di prezzo e comunque con lui riuscirete a portarvi a casa degli scatti degni di un professionista e comunque io personalmente affiderei dei ricordi a questo smartphone. A livello software ci si affida ad una versione Android 12 con patch di sicurezza di settembre 2022 personalizzata dalla MIUI 13. Non spendo tante parole sull'interfaccia grafica di Xiaomi perché ormai la conosciamo davvero tantissimo, è ricca di personalizzazione a livello grafico e proprio di impostazioni anche legate alla privacy, ma soprattutto ci tengo a precisare che qui MIUI 13 sembra davvero studiata a pennello per questo smartphone. Non ho mai ravvisato alcun bug, alcun rallentamento, niente di niente che mi facesse storcere il naso. Quindi Xiaomi 12T è uno smartphone super affidabile non solo per le performance ma anche per il software che gira sopra. Xiaomi 12T è uno smartphone decisamente potente, non si fa mancare nulla e riesce a tenere testa ai migliori top di gamma. Abbiamo a corredo una batteria da 5000 mAh che qualcuno potrebbe dire essere un po' sottotono considerando che abbiamo un refresh rate del display fino a 120 Hz, decisamente molto energivoro, ma lui nonostante ciò riesce comunque ad arrivare tranquillamente a sera anche con un uso intenso. Ma soprattutto dovete sapere che lui supporta la ricarica rapida fino a 120 Watt, peraltro con caricatore annesso in confezione, quindi non dovrete comprare nulla. E questa super ricarica vi permetterà di andare a fare il pieno di energia dallo 0 al 100% in soli 19 minuti. Il tempo di farsi una doccia, bere un caffè e avrete lo smartphone completamente pieno. Probabilmente ho tralasciato qualche piccolo dettaglio, ma in quel caso vi invito a curiosare sulla recensione testuale dove trovate il link qui sotto in descrizione. E sempre sotto in descrizione trovate anche il link per l'acquisto di questo smartphone. E quindi arriviamo un po' al dunque, perché Xiaomi 12T si configura con un prezzo di 599,99 centesimi di euro, disponibile direttamente anche sul Mi Store ufficiale italiano. Detto ciò, il suo prezzo di lancio in realtà era 499 euro. E qui voglio dire che a questo prezzo, ovvero a 499, è davvero un best buy. Quindi sicuramente se siete interessati all'acquisto vi invito a farlo, ma eventualmente tenete d'occhio le varie offerte che pubblichiamo anche sul nostro canale Telegram, perché a 499 secondo me è il suo prezzo davvero da prendere al volo. Ma soprattutto non manca un'ottima costruzione, un buon bilanciamento dei pesi, un ottimo suono, una batteria davvero eccezionale e un dispositivo che sembra realizzato appositamente per regalare emozioni. Insomma, Xiaomi 12T a mio avviso confermo, è il miglior Xiaomi presente sul mercato. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!